No, le porcellane no. Ci tieni quanto ci tengo io. Di più. Non la guerra dei roses, parafrasando il celebre film, ma la guerra dei galderisi. Dopo una lotta senza esclusione di colpi che dura da due lustri, l'ultima parola nella battaglia scatenata tra Giuseppe e l'indimenticabile Nanu Bomber del padova del sindaco Giordani, quello che nel 1995 conquistò la serie A e la moglie Perla Mazzolini potrebbe metterla alla procura. A rivolgersi ai giudici con una denuncia penale è stata la signora Perla che reclama la regolarità del pagamento dei 1000 euro al mese stabiliti dalla sentenza di divorzio. Nessun mezzo di sostentamento per l'ex dama dei salotti televisivi cittadini che ha giocato il suo asso nella manica facendo finire il nome del caro ex marito nel registro degli indagati con l'accusa di mancato versamento degli obblighi di assistenza familiare. A stabilire questi oneri era stato il tribunale di padova che aveva attribuito all'ex giocatore, ora allenatore e commentatore tv, le colpe della separazione con gli obblighi che ne derivano. Doveri che non sempre sono stati assolti da Nanu, con la moglie costretta a procedere a due diversi pignoramenti e il marito a giocare una partita a scacchi fatta di ricorsi e cavilli. Se alcune mensilità dell'annata in corso sono arrivate, del resto nessun riscontro e per questo la battagliera signora ha sferrato l'attacco. I soldi all'ex non mancano, il refrain paghi quanto dovuto. La parola adesso passa ai giudici e a un'aula di tribunale che da civile diventa penale.